Credo praticamente che il confronto sia un elemento importante della vita dell'uomo e soprattutto importante quando le culture tra loro hanno un'interazione produttiva. Quindi far parte della Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro per me vuol dire proprio questo, essere aperto al confronto e scoprire nuove emozioni, nuove sensazioni, dal condividere una passione che è per il calcio ma allo stesso modo questa deve necessariamente fondersi con quella che è la cultura della sicurezza che tendiamo praticamente a raggiungere, a trasferire anche ad altre persone e a chi ci circonda.